Sette anni sono veramente tanti per una cosa di poco conto. Le prigioni francesi sono davvero così orrende? Volevo informarla che un dipinto di notevole importanza è stato rubato dal Museo di Arte Moderna circa dieci anni fa. È praticamente scomparso da nulla. E così ho pensato che lei avrebbe potuto darmi una mano a ritrovarlo. Mio figlio è stato ucciso un paio di mesi fa. Aveva una compagna. Io sono venuto qui solo per riprendermi le sue cose. Che cosa è successo? Tuo figlio. L'ho cresciuto per sette anni. E' andato tutto bene per sette anni. Poi due anni fa, quando ha lasciato l'università, è cambiato, Victor. Delle compagnie sbagliate. Ha cominciato ad avere problemi. Quali problemi? Droga. Era il giorno in cui ci siamo conosciuti. E' una foto bellissima. Tu amavi mio figlio? Mi dici perché l'ha lasciato? Perché lui mi ha mentito. Chi è stato a trascinarlo nella droga? Ti prego. Dimmelo. Spiegami perché mio figlio è morto. E chi l'ha ucciso. E mi dovrai dire tutta la verità. Sai perché? Perché se me e io farò fuori tutta la tua famiglia. E chi? Io non so proprio niente. Lo giuro. Jeremia era come un fratello per me. No! 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 Mi prego, no!